Oggi ad Ottaviano quasi come se fosse un giorno come un altro, poche le persone in strada, ma qualcuno ancora ha ricordi vividi di Raffaele Cutolo. Per noi è stata una persona per bene, poi il resto è da sì. Perché lui è stato sempre una persona perfetta, a fronte agli altri cantatori lui non ha mai parlato. Poi c'è l'altro lato della medaglia, un puro caso, una visita già programmata a quella del prefetto di Napoli ad Ottaviano, proprio nel giorno della morte di Raffaele Cutolo. Un momento per raccontare il territorio, delle problematiche e delle difficoltà. È una storia del passato che non appartiene più alla realtà del comune di Ottaviano. Ho avvertito molto la necessità che il peso di questa negativa eredità non appartenga più alla narrazione di questa realtà, cittadina. Nel tour la visita al castello cittadino di proprietà di Cutolo è confiscato, adesso riconsegnato alla cittadina. Ci siamo buttati alle spalle un passato, ricordando che Ottaviano è stata una parentesi bruttissima in quel momento. E anche questo palazzo è il segno della restrizione alla città, il palazzo Medicio, il palazzo degli ottavianesi, il palazzo dell'intera comunità, diciamo sulla linea della legalità. Intanto per quanto concerne i funerali, le esecue potrebbero tenersi ad Ottaviano stesso, ma nulla è stato ancora deciso in via definitiva. Nel corso dell'incontro il prefetto ha ribadito che con molta probabilità si tratterà di un rito per pochi familiari stretti.